Prima di iniziare voglio solo dire che la sigla non è mia, ma è di questo ragazzo di nome Mr. Atto di fede, che lo ringrazio per avermi fatto vedere la sigla, ma quando le c'è non c'è. Prima di iniziare voglio solo dire che la sigla non è mia, ma quando le c'è non c'è. Prima di iniziare voglio solo dire che la sigla non è mia, ma quando le c'è non c'è. Prima di iniziare voglio solo dire che la sigla non è mia, ma quando le c'è non c'è. Volontà, volontà, chi ce l'ha è più forte dei forti, niente non perderà. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità, per cui in ogni incontro si nasconde, uno scontore sta, e non ci sono due e due, è la storia che si può seguire. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità, per cui in ogni incontro si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si può seguire. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità, per cui in ogni incontro si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si può seguire. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità, per cui in ogni incontro si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si può seguire. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità, per cui in ogni incontro si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si può seguire. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità, per cui in ogni incontro si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si può seguire. E' la storia che si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si tratta. E' la storia che si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si tratta, e non ci sono due e due, è la storia che si tratta. Io vi giuro, che su youtube cercavo e cercavo, ma non trovo mai i siti di Dragon Ball GT, e finalmente l'ho trovata, quindi... Mi strato di feda, posso solo ringraziarti, e quindi... Ciao ragazzi!